La stagione teatrale castanese organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso in collaborazione con l'associazione creativa SRL di Andrea Solano prosegue con la presenza dell'attore Giorgio Pasotti in Io Shakespeare e Pirantello. Lo spettacolo è prodotto da Stefano Frangioni, la regia è firmata da Davide Cavuti, le musiche sono di Cavuti. Lo spettacolo Io Shakespeare e Pirantello è un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori, appunto William Shakespeare e Luigi Pirantello i cui testi saranno interpretati appunto dall'attore Pasotti. Nel corso della performance teatrale l'attore proietterà gli spettatori nelle atmosfere disegnate da alcuni dei più grandi uomini della letteratura internazionale. Giorgio Pasotti interpreterà infatti i testi in modo originale calandosi nei vari personaggi attraverso le storie che saranno raccontate sul palcoscenico. Lo spettacolo è suddiviso in due quadri. Il primo è un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, ovvero William Shakespeare. Si partirà dal discorso di Marcantonio tratto da Giulio Cesare, fino al più celebre monologo del teatro, l'essere o non essere di Amleto. Il secondo quadro avrà come light motive alcuni dei personaggi di Luigi Pirantello, considerato tra i più importanti drammaturghi del XX secolo, dall'uomo dal fiore in bocca ai ritratti dell'Italia del tempo, firmati dallo scrittore italiano e vincitore del premio Nobel per la letteratura. Al pubblico sarà offerta l'opportunità di ascoltare la musicalità delle parole dei grandi scrittori suscitati con le musiche originali che sono composte da Davide Cavuti. Le opere letterarie dei grandi di Shakespeare e Pirantello sono fondamentali per avere una forte base culturale, sia storica che letteraria. La loro produzione è unica infatti nel delineare i momenti storici importanti della umanità, sempre affrontati con un lessico semplice e ricco di colori e di sfumature che inevitabilmente affascinano le varie generazioni di spettatori. Giorgio Pasotti, l'attore protagonista dello spettacolo, è nato a Bergamo nel 1973. Come attore ha prodotto al mondo del cinema in un modo singolare, fin da piccolo ha coltivato la grande passione per le arti marziali e poi grazie al padre Mario ha praticato karate e jutsu, divenendo in breve la più giovane cintura nera di jutsu d'Italia. Ciò lo ha spinto a partire alla volta della Cina, allenandosi per anni con i ragazzi della squadra campione cinese all'Università di Educazione Fisica di Pechino. Nel 1993, questo anno è stato l'anno di Pasotti, che l'ho vista prodare al cinema. Una casa di produzione, l'ho infatti notato, gli ha proposto il ruolo di un giovane americano che diventa un monaco nel tempio di Shaolin e poi da qui sono cominciati i suoi primi personaggi nel mondo del cinema. La carriera di Pasotti da distretto di polizia a Mina Settembre. Una volta tornato in Italia si è lanciato nel mondo della recitazione, ha partecipato ai film fatto di Gabriele Muccino e di piccoli maestri, per poi ottenere la conduzione su MTV in Cinematic e poi al teatro nel 2000 con Stefania Rocca. Al pubblico italiano Giorgio Pasotti è diventato noto grazie all'interpretazione dell'ispettore Paolo Libero a distretto di polizia. Dopo il successo di tutto il mondo calabrese, successo di critica e di pubblico, secondo appuntamento con la stagione teatrale di Cassano con Io Shakespeare e Pirandello con protagonista Giorgio Pasotti. Andrea Solano, direttore artistico della stagione, presentaci questo spettacolo. Uno spettacolo che si inserisce in un cartellone, come abbiamo detto, variegato, la musica, la prosa, la comicità e poi questo spettacolo che è semiserio, quindi affronta il tema del teatro attraverso la lettura, l'interpretazione, il coinvolgimento del pubblico con un grande interprete amatissimo dagli italiani quale Giorgio Pasotti. Diciamo che Shakespeare e Pirandello rappresentano due colonne del teatro. Due grandi autori che si vanno ovviamente a inserire in una rosa ampia di grandi nomi, però quando si pensa al teatro spesso i nomi proprio di Shakespeare e di Pirandello sono quelli che saltano forse più facilmente alla memoria del pubblico, sia quello dotto sia quello occasionale. Quindi una prova importante d'attore con un pubblico ovviamente all'altezza, quale quello di Cassano, che si sta dimostrando sempre all'altezza di questo meraviglioso luogo e di un cartellone che a quanto pare sta riscuotendo il consenso del pubblico. Andrea, a proposito di pubblico, si è notato già dalla prima serata che c'è un pubblico anche variegato e anche pubblico non solo locale ma anche comprensoriale. Questo per la soddisfazione dell'amministrazione comunale che ha puntato a grandi nomi, a grandi titoli appunto per far accrescere il valore di questo luogo importante e bellissimo. L'investimento per il quale io non posso che ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Gianni Papasso, l'assessore Elisa Fasanella, ma tutta quanta la giunta, tutta la macchina, ci consente appunto di prendere questo teatro e di ospitare anche pubblico da fuori Cassano, che per fortuna chiama subito, è interessato, quindi vuol dire che il meccanismo funziona. Il messaggio è arrivato nel comprensorio del Pollino e della Sibaride, insomma? Sì, sì, ma anche da Corigliano, da Cosenza, da Rossano, da Castrovilleri Morano, da tutto lo Ionio, anche dall'Alto Ionio, da Francavilla, Trebisacci, quindi vuol dire che stiamo lavorando bene. Pasotti questa sera protagonista, un volto noto del cinema, della televisione, del teatro. Sì, abbiamo puntato su di lui appunto perché potessimo portare in scena uno spettacolo impegnato, anche se semiserio, ovviamente interpretato da un grande nome, che si va appunto a sommare ai grandi nomi di questa stagione, tra Solfrizzi, Annuzzo, lui, Calabrese... Pasotti fa da prologo all'Alto Spettacolo che seguirà il 25 febbraio con il padre della sposa che vedrà grandi protagonisti. Sì, avremo l'Aderossi. Diciamo che questa stagione, ogni spettacolo punta a sorprendere sempre più, sarà un crescendo fino alla comicità esilarante di Paolo Antoni. Ed eccoci con il protagonista dello spettacolo di questa sera, qui al Teatro Comunale della città di Cassano, Giorgio Pasotti. Recita due importanti personaggi della letteratura nazionale e internazionale, Shakespeare e Pirandello. Sì, ci tengo a precisare che questo è uno spettacolo molto leggero. Abbiamo pensato di restituire al pubblico dei testi classici, delle parole eterne, di autori ovviamente tra i più famosi, non solo in Italia ma nel mondo, ma in maniera leggera, in modo che questa leggerezza potesse arrivare al pubblico e avesse un maggior impatto proprio di comprensione. È uno spettacolo questo che porto da ormai diversi anni, abbiamo fatto più di 350 repliche, è super collaudato. Ti ha rodato! È super collaudato proprio. Abbiamo capito che anche i classici possono, come dire, diventare interessanti, simpatici, leggeri. E poi uno spettacolo che contiene anche dei messaggi. Assolutamente sì, perché proprio attraverso le parole dei grandi sono assolutamente sempre moderne, sempre attuali. Ci insegnano sempre qualcosa, ci illuminano su anche ciò che sta accadendo in questo preciso periodo nel mondo e in Italia. tante cose stanno accadendo intorno a noi. Le parole dei grandi ci aiutano proprio a comprendere nel significato più profondo. La vita è un'opportunità. 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 La vita è un'appunto. La vita è un'opportunità. La vita è un'opportunità. La vita è la vita. Difendila. La vita è la vita. La vita è la vita. Difendiamola. Difendiamola. Come nasci artista? Io personalmente non è stato per me un sogno essere attore, è qualcosa che ho scoperto nel mentre che stavo realizzando. Da sportivo diciamo. Esatto, da sportivo e poi da dottore che era poi la carriera che io volevo intraprendere e diciamo sulla via di Damasco ho avuto questa illuminazione. E ho trovato in questo mestiere tutto ciò che io cercavo ma non sapevo dove trovarlo. È importante avere uno sguardo rivolto sempre all'attualità, insomma a tutto ciò che ci gira intorno. Sì, il teatro deve ritornare ad avere quella funzione che poi è la sua funzione prima, cioè di raccontare l'attualità attraverso le grandi parole eterne di chi il teatro l'ha scritto e l'ha fatto. E deve ritornare ad essere quel luogo di scambi di opinioni, di socializzazione, di cultura elevata ma nel senso più semplice, cioè di attraverso gli spettacoli, gli artisti far arrivare dei messaggi che altrimenti sarebbero difficilmente comprensibili al pubblico. E per il pubblico intendo tutto il pubblico, soprattutto i dei più giovani. Spesso si è parlato di crisi del teatro, del cinema, della televisione ma sembra che adesso siamo in una fase di recupero. Sì, diciamo che dopo il periodo della pandemia che ha ovviamente fatto sì che tutti noi fossimo segregati e chiusi in casa, dopo quel periodo c'è stato un grandissimo entusiasmo, una grandissima spinta verso gli spettacoli dal vivo che fossero concerti, che fossero spettacoli a teatro. Quindi c'è un'ondata di rinnovato entusiasmo nei confronti dei teatri. Ci sono teatri pieni dalla Val d'Aosta alla Sicilia passando per ogni piccolo teatro che sono dei gioielli come quello di Cassano, che sono piccoli teatri ma sono dei gioielli che vanno fatti vivere e devono ritornare ad essere il centro della cultura e della vita sociale di ogni paese e di ogni città. Un'ultima cosa, le istituzioni proposte cosa possono fare per ingentivare ulteriormente il teatro? Beh, ci sono tante cose che si possono fare, cose che sembrano semplici ma possono essere per esempio di grande aiuto per avvicinare i più giovani al teatro. Noi dobbiamo, chi come me non solo fa l'attore ma dirige un teatro statale, un teatro pubblico come quello dell'Aquila, il teatro stabile dell'Aquila. Ecco che abbiamo il dovere di seminare soprattutto nel pubblico dei più giovani una rinnovata curiosità, un rinnovato entusiasmo verso il teatro facendo cosa? Facendo gli spettacoli che strizzano l'occhio ovviamente ai più giovani senza snaturare quello che è l'essenza del teatro ma cercando di avvicinarli attraverso per esempio orari a loro più congeniali, per esempio anticipando gli spettacoli alle 19 in modo che loro possano poi trovarsi, finito lo spettacolo, ad avere la serata davanti e quindi non pensare che il teatro gli possa aver rubato del tempo. Insomma tante piccole cose partendo da dei prezzi un po' più modici nei confronti dei ragazzi, insomma tantissime piccole cose, tantissimi piccoli accorgimenti che potrebbero fare questo di importante. Che progetti hai per il prossimo futuro? Tanti progetti che si dividono tra il teatro, la televisione, il cinema, delle regie che mi vedono appunto in una nuova veste, quella di regista appunto, sia teatro che al cinema, insomma tantissimi, la direzione del teatro stabile che è un impegno gravoso, molto importante, che mi porta via tantissimo tempo ma mi dà anche grandissime soddisfazioni e insomma tanti progetti che mano a mano svelerò al pubblico. Adesso questo di volta in volta sarebbero troppi e poi la gente neanche si le ricorda. Diciamo che il primissimo ecco è un altro spettacolo dal titolo Racconti disumani tratto da Kafka, altro autore meraviglioso di cui parole sono anch'esse eterne, per la regia di Alessandro Gasman e si intitola Racconti disumani. Da settimana prossima inizierò la tournée partendo da Roma, dal teatro Quirino di Roma e per arrivare ovviamente anche qui di nuovo spero in Calabria. Grazie, con questa anticipazione la salutiamo e la ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie Giorgio, buone cose. Con noi l'assessore delegata al teatro del Comune di Castanoioni, nonché anche assessore alle politiche sociali Elisa Fasanella. Siamo alla seconda serata della stagione teatrale dopo il successo della prima serata. Questa sera protagonista un artista di primo piano del panorama italiano, Giorgio Pasotti. Sì, come dicevi bene, siamo alla seconda serata. La prima abbiamo avuto qua il grande Gennaro Calabrese, un comico, è stato tanto bravo perché ci ha fatto tanto divertire. Abbiamo sorriso tutti quella sera, ci siamo tanti divertiti tutti. E questa sera invece abbiamo un altro grande artista, Giorgio Pasotti, un artista nazionale, un artista di rilievo, con un monologo. Io, Shakespeare, è perandello. E' un percorso nel mondo della letteratura e del teatro, quindi un'opera veramente importante, un monologo molto molto importante. Grazie. 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 Grazie per questa sera, grazie per questo posto. Vi voglio ringraziare il sindaco e la giunta comunale che hanno fatto sì che io venissi qui con non poche difficoltà. C'è stato due ore di ritardo Roma-Salerno, due ore di ritardo Salerno-Lamezia. Poi abbiamo affittato una macchina, ma l'agenzia della maggiore era chiusa che erano le sei. Abbiamo, forse, siamo dovuti andare all'aeroporto, Abbiamo preso la macchina e dopo un'ora di quarta siamo arrivati qua. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie anche a tutti gli altri bambini. Grazie anche a tutti gli altri bambini, anche a tutti i bambini. Grazie a tutti gli altri bambini e a tutti gli altri bambini. Ecco, grazie a tutti. Questa è il nostro meraviglioso teatro e lui è Giorgio Pasotti. Grazie. Grazie, 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 grazie